Questa mattina si è svolta a Trani la marcia contro la criminalità. La manifestazione è nata da un comitato spontaneo di cittadini che è avvertita l'espansione della criminalità nella città di Trani, culminata poi con i recenti arresti sul presunto racket delle estorsioni. Ha deciso di raccogliere tutte le forze della società civile per l'affermazione della cultura della legalità. Francesco Rossi. Sindaco, un'intera città che si è messa in marcia? È una grande risposta, sicuramente c'è grande orgoglio oggi essere sindaco di questa città più degli altri giorni. La città ha dato una risposta forte, ha detto da che parte sta, dalla parte della legalità. Cosa si può fare concretamente? Lo stiamo già facendo, abbiamo di fatto già istituito con tutte le associazioni chiaramente di categoria, quelle interessate, un tavolo per la legalità, un tavolo permanente. Lo istituzionalizziamo a giorni in Consiglio Comunale, su quel tavolo stiamo già lavorando delle proposte che il sottoscritto porterà poi nel tavolo istituzionale, chiaramente al comitato, quello in prefettura, per cercare appunto di provare anche a lavorare per rendere più sicura questa città ma anche forse per dare una maggiore percezione di sicurezza al cittadino. Visto che poi non dimentichiamocelo, comunque questa rimane un'isola felice. Presidente, questa marcia non riguarda soltanto Trani ma è un po' la risposta dell'intero territorio provinciale. Sì, credo che Trani abbia dato una risposta incredibile in termini appunto di avversione a qualsiasi forma di legalità riguardo all'intero territorio provinciale. Ci sono state anche in altre città, credo che la parte sana delle comunità reagisce sempre di fronte alle forme di prevaricazione. È importante la presenza delle istituzioni scolastiche perché la cultura della legalità bisogna perseguirla sin dalla piccola età e credo che poi alimentandola si possono combattere in modo efficace le forme di legalità che purtroppo tendono sempre a diffondersi. E dobbiamo ringraziare anche le forze dell'ordine perché svolgono un lavoro costante e quotidiano sia in termini di prevenzione sia in termini di repressione e la magistratura in termini anche di azioni che colpiscono la criminalità organizzata. Voglio ricordare l'immenso sequestro di beni effettuato che li toglie disponibilità economiche e quindi anche depaupera quella che è la loro linfa vitale per le attività criminali. È successo straordinario. La città ha risposto forse anche più delle attese. Sono anch'io meravigliato. Mi sono immerso in questa avventura e non ho parole. Sono felicissimo e spero che questo serva anche alla gente che non c'è. Si sta mantenendo un po' nascosta nei vicoli a capire che se non ci muoviamo qui finiamo. Invece noi dobbiamo iniziare, non finire, dobbiamo iniziare. C'è stato qualche problema con qualche scuola ma poi alla fine la risposta... No, no, una polemica sterile perché hanno preso una mia frase e l'avranno voluta un po' colorire. Noi contro i presidi è ridicolo. Dopo che li abbiamo invitati ci mettiamo conto. Assolutamente no. Era solo un rammarico perché avremmo voluto che ci fossero tutti gli studenti. Però abbiamo trovato forse un accorgimento per dare la possibilità a tutti gli studenti di usufruire di questa iniziativa perché registreremo le testimonianze che ci saranno in Piazza Duomo e poi le distribuiremo nelle scuole. Perché questo è un evento che va portato all'attenzione dei ragazzi soprattutto. È solo il primo passo? Per quanto mi riguarda sì. Probabilmente la cosa avrà seguito con un'organizzazione fatta ad hoc per la legalità. Dottor Bassallo, la sua testimonianza a quest'oggi è particolarmente preziosa perché le istituzioni non devono essere lasciate sole come è capitato per esempio a suo fratello. Sì, per questo siamo qui. Il nostro dovere è quello di stare vicino alle amministrazioni e portare avanti il vestito della legalità. Quindi interessa tutti quanti noi. I cittadini possono fare marce, possono esprimere il proprio punto di vista. Ma cosa si può fare concretamente? No, i cittadini possono fare molto di più. I cittadini sono sentinelli della legalità, non soltanto marce. ma impegnarsi ognuno accanto all'altro per denunciare, per portare avanti i principi costituzionali di questo paese.